C'era stato praticamente un fraintendimento a livello popolare che io fossi diventata una star, nonostante la mia denuncia e siccome alcune scene erano state sequestrate, altre bisognava continuare con le denunce eccetera, per la mia malattia era stato peggio, chiamavo i miei contatti e non mi parlavano più perché pensavo che io l'avessi voluto fare veramente, cioè non è passata tanto l'immagine che io fossi veramente vittima di questa cosa. Per fortuna Barbara Durso poi recentemente mi ha chiamata in trasmissione e ha chiarito tutto quanto.